eccoci con elena stavamo parlando di cose un po sconce e per fortuna la telecamera era spenta si esatto allora si è lamentata perché ha detto oggi volta mi hanno insultata sia manetta tantissimo bisogna esprimersi in maniera civile perché dovete essere così offensivi ok comunque parliamo del nostro topic ok perché diciamo una ragazza non si concede il primo appuntamento allora in realtà mi sembra scontato nel senso che purtroppo preambolo di sempre viviamo nella società patriarcale quindi la donna sono d'accordo si vediamo che la società femminista appunto se a livello di relazioni c'è ancora un po di c'è perché comunque c'è un po di dominazione maschile ancora del tipo se una ragazza si concede al appuntamento viene bollata troia facile e questo noi non lo vogliamo chiaro è semplicissimo in realtà primo motivo perché sappiamo che poi l'uomo perde interesse altro punto l'uomo perde interesse subito perché comunque quello che diciamo sempre un po cacciatore quindi vuole un po allora come succede l'essere umano cosa cosa fa desidera qualcosa ma perché la desidera perché è difficile da ottenere giusto è la stessa cosa un po con la donna quindi se la donna si concede subito perde valore all'occhio dell'uomo non che è una donna che lo fa vuol dire per forza che sia una troia però diciamo che all'occhio dell'uomo medio purtroppo sono tanti confermi magari anche tu perde valore la donna nel momento in cui si concede al primo appuntamento quindi ovviamente al 90 per cento le ragazze non lo fanno a meno che non so ci siano proprio fuochi d'artificio scoppi una passione improvvisa però comunque normalmente se tu sei propensa ad avere poi una relazione o costruire qualcosa sicuramente non ti concede al primo appuntamento è sicuro questo al cento per cento ma su questo concordo ti dico perché ma personalmente ti dico se una ragazza si concede appuntamento la mia testa direbbe subito chissà se lo fa anche con gli altri esatto e ti dico questa è una cosa che su cui mi sono confrontato anche con altri miei amici che sono in giro per il mondo e che hanno avuto conoscenze varie e anche loro quando succede questo episodio qualche ammutamento adesso come cazzo fai a fidarti c'è un casino vieni bollata magari se la ragazza più seria al mondo semplicemente erano le circostanze semplicemente avevi un non so un coinvolgimento particolare per questo comunque si è finita comunque si è finita orrendo no no vabbè però nel senso ovvio che no però diciamo che se tu sei propensa a fare questo genere di cose che se tu sei contraria in generale non lo fai a prescindere quindi già tu magari sei un po propensa a fare questo genere di cose questo non vuol dire che ci sia una persona facile o non ci si possa fidare o non si può costruire una relazione tutt'altro però purtroppo nell'ambiente dell'uomo è un po' questo che vedi anche tu me la stai confermando che ti domandi subito ma non è che la vai ad etichettare così cioè ti viene come dire spontaneo sì non erogare subito la fiducia perché se domani sera esce con un altro e porca miseria potrebbe essere stesso scenario ripetuto replay e la sarà dopo un'altra volta diventa un problema diventa un problema ragazzi serio ok no infatti per questo poi c'è chi chi proprio non interessa quindi magari cerca una cosa facile cerca stesso occasionale ma dopo ne parliamo niente però normalmente è questo l'unico motivo per cui non non si concede non ce ne sono altri punto è questo che ha paura di essere etichettata perché magari se non vivessimo una società patriarcale la donna sarebbe libera di fare sesso quando e con chi vuole in qualsiasi momento allora ditte se viviamo in una società patriarcale secondo me viviamo veramente nell'esatto opposto per alcune cose sì per alcune cose sì però per altre vabbè chiudiamo con una bella domanda molto semplice tu ti sei mai concessa per appuntamento se lo sapevo ogni volta potrebbe essere successo potrebbe essere successo io dico che è probabile ma non perché schialente è perché intuitivo qui da cristiana per oggi tutto un saluto